La gente ha paura qui? La gente ha paura perché la sera è buio e quindi noi siamo costretti, non viene più nessuno, siamo costretti a chiudere a una certa ora molto presto. Perché chi porta i bambini a sparsi in questa zona? Ci li porterebbe lei? No. Ecco. Se lei fa un giretto di notte, di sera, vedrà che non c'è un'anima viva perché la gente è tappata in casa. Quindi c'è bisogno di cosa? C'è bisogno di sorveglianza, c'è bisogno di luce, c'è bisogno di un'attenzione in più. A questo ghetto, che è diventato un ghetto ormai, questo è il Bronx, il piccolo Bronx di Bastia. Noi siamo immarginati perché paghiamo le stesse tasse che pagano gli altri, ma i servizi non ci sono. Quante volte hanno colpito in questo bambino? Tre volte. Sempre con danni o anche con furto? Furto le prime due volte e danni oggi. Senza niente? Stanotte non è successo? Stanotte non, ma probabilmente non sono neanche entrati. Quindi lei chiede al sindaco sorveglianza e illuminazione? Sì, sì, perché è importante. Vuole parlare anche lei signora? No. Può parlare fuori campo. A Natale anche non c'è mai una luce, sono due anni che siamo qui, non c'è stata mai messa una luce. Le luci di illuminazione e di abbellimento arrivano in fondo alla strada, ma noi paghiamo le tasse come gli altri. Certo. Io non dico gli stessi servizi degli altri, però almeno una sorveglianza ogni tanto, una mano ogni tanto, un po' di luce. Chiediamo soltanto un po' di luce in più. Io sono anni che la chiedo ai carabinieri, che loro mi dicono che giustamente non è colpa nostra. La chiedo ai vigili e loro mi ripetono, parlo in comune. Tutti orecchie da mercanti. Grazie.